Arte al posto di incuria, mattoni, sporcizia. E' questo l'obiettivo del progetto Reggio Galleria Urbana, presentato stamattina a Palazzo San Giorgio. Il progetto, ideato dal direttore editoriale di strill.it, Raffaele Mortelliti, consiste nel tentativo di restituire decoro ai muri della città, tappezzandoli con manifesti artistici. In sostanza, Reggio diventerebbe una galleria d'arte a cielo aperto, col doppio scopo di diffondere cultura e ridurre il degrado. L'iniziativa, patrocinata da Comune e Provincia, si avvarrà della collaborazione di artisti che normalmente non hanno molte opportunità di esprimersi. Si inizierà con la mostra dal titolo Speaking Doors, porte parlanti, dell'artista digitale ad Ecno, per poi dare spazio ad eventuali altri artisti. Speaking Doors si caratterizza per i suoi disegni estremamente elementari, quattro linee, quelle che compongono un rettangolo su una campitura monocromatica, porte parlanti che rappresentano sia il passaggio che l'essere umano visto come apertura verso nuovi mondi. Ad Ecno esporrà 108 opere, quindi 108 tipi di manifesti differenti, per un totale di circa 1000 pezzi sparsi per tutti i muri della città dello stretto. Grazie a tutti.